Bullismo telematico, stalking sulla rete e pericoli di internet. La Questura è vicina alla città, vicina ai giovani, ai bambini ed è anche protagonista di una pubblicazione. Sì, questo è un volumetto che grazie all'aiuto che ci ha dato, ci ha fornito l'amministrazione comunale siamo riusciti a realizzare. Vuole essere, oltre che il convendio di un'attività svolta negli anni precedenti, dei suggerimenti che il personale della Questura, altamente specializzato in materia di web e internet, vuole dare ai giovani i pericoli che si incontrano percorrendo senza limiti, navigando senza limiti sul web stesso. Questa pubblicazione è destinata anche e soprattutto ai genitori? Sì, infatti come si è detto, oltre ai ragazzi vogliamo fornire uno strumento di riflessione ai genitori, perché il mondo dei ragazzi conosce tutto benissimo, il mondo virtuale, il mondo di internet, a volte siamo noi i genitori che magari ancora siamo fermi nei vecchi concetti e quindi dobbiamo assolutamente voler offrire un momento di riflessione per tutti, per i genitori, per gli alunni e per gli insegnanti. Un uso consapevole, prudente e moderato per il web, un uso sano dello strumento tecnologico. E' sinergia tra scuola e Questura per stare accanto ai ragazzi, ai bambini che oggi hanno tanto bisogno di essere seguiti? Non può essere diversamente, io di questa sinergia devo ringraziare l'ispettore Falzone, il Questore, la Polizia di Stato, perché tutte le volte che io ho chiesto un intervento, nel senso di un percorso, i percorsi che abbiamo attuati, sono stati sempre disponibili e deve essere così. Poco fa dicevamo che i ragazzi danno un'ottima risposta, sono interessatissimi e tutte pongono diverse domande. Adesso, ispettore Falzone, bisogna lavorare e battere un po' più sui genitori, perché sull'adulto i docenti già li coinvolgiamo, ovviamente, e io credo che dobbiamo insistere sui genitori proprio per fare un lavoro sinergico. L'ispettore Falzone ha lavorato a questa pubblicazione, quanta fatica c'è dietro a quest'opera? La fatica è quella che devi sottrarre un attimino le cose dell'ufficio, però considerate che siccome questo libretto è il convendio e l'attività dello scorso anno, è nato man mano, come dicevo poco fa, man mano che i problemi sono sorti abbiamo cercato di affrontarli. Io, come dicevo poco fa, la Net Generation, che sono questi ragazzi nati dal 2000 in poi, sono nati nel piano della rivoluzione digitale e sono dei ragazzi assolutamente interessati all'utilizzo di questo tipo di strumenti, non sempre lo fanno con la consapevolezza adeguata. Considerate che in mezzo si ci mette pure il divario digitale che c'è con i genitori, quindi i genitori non sanno cosa fanno i figli, quindi noi oggi il nostro obiettivo in collaborazione con la scuola è quello di dare un'educazione etica ai ragazzi, ma di darla anche tecnica. Per noi è importante che i ragazzi comprendano quali sono i pericoli, proprio nel senso di come funziona lo strumento, dopodiché dobbiamo educarli e come dicevo poco fa, è di qualche giorno fa la festa della rete che si sta occupando di queste cose. I nativi digitali vanno educati al digitale.